ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video oggi sono qua io finalmente a mostrarvi i consigli dei saldi di steam perché come avete potuto vedere per chi ha seguito la live ieri sera io non c'ero non c'ero perché avevo dovuto andare via per vedere delle cose di lavoro che non posso dire e quindi niente quindi oggi ci sono i miei consigli dei saldi di steam andiamo subito a vedere cosa c'è mentre tornavo a casa ho guardato un po i saldi che erano usciti perché oggi non ho avuto tempo e ho già scelto cosa mostrarvi io vi mostrerò quattro titoli diciamo uno bonus anzi uno è già qua quindi ve lo dico subito qual è eccolo qua primo titolo che vi consiglio è the wolf among us a parer mio la più bella serie che abbia mai fatto di tutte quelle che ha fatto telltale basata su fable un fumetto americano edito della dc e le differenze col fumetto sono che mentre in fable ci sono tante storie che vengono raccontate quando ho preso un personaggio del fumetto ci hanno basato la serie che è big b è un investigatore ed è il lupo cattivo tra l'altro in italiano tradotto malissimo perché c'è una traduzione italiana amatoriale per il gioco che è anche quella del fumetto e non è colpa dei ragazzi che sono stati grandiosi a tradurlo purtroppo nel fumetto in italia vedete come vedete quali italiano non è supportato purtroppo il fumetto in in italia l'hanno tradotto con luca luca e lupo cattivo invece big b era fantastico se lo lasciavano perché sta per big bad wolf quindi le due grandi b e secondo me avventura grafica da telltale questa è la più bella che abbiano fatto tra the walking dead qualcosa che c'è game of thrones poi cosa che c'è borderlands tales from the borderlands questa secondo me a oggi rimane la migliore soprattutto è scontata del 75 per cento cioè non dovete farvela scappare 5 euro 74 invece di 22 grandissima offerta passiamo a la seconda terza e quarta perché appartengono tutto allo stesso franchise eccolo qua ovviamente vi faccio un saldi steam tutto all insegna di avventure grafiche sherlock holmes franchise partiamo il primo titolo di sherlock holmes che vi consiglio che vi consiglio è sherlock holmes vs jack the reaper titolo primo titolo arrivato su 360 che è uscito al di fuori del pc fantastico molto bello soprattutto a chi piace le avventure grafiche gli investigativi e la cosa bella di questo titolo è che sono riusciti a fondere un personaggio realmente resistito della onda vittoriana che era jack the reaper jack lo squartatore con il più grande detective di tutti i tempi nato dalla dalla penna dalla china di conan doyle sta a un euro 99 lo sconto dell'ottanta per cento per chi piace il genere e soprattutto gli piacciono gli investigativi e piace sherlock holmes loro fanno le migliori i migliori giochi e le migliori serie su sherlock holmes supporta l'italiano quindi interfaccia e audio anche i sottotitoli c'erano non so perché qua non li segnano però ci sono anche sottotitoli e sta un euro e 99 con l'ottanta per cento di sconto questa offerta termina tra 19 ore mentre quella di wolf di wolf among us era 48 quindi questa 24 l'altra 48 poi the testament of sherlock holmes bellissimo anche questo primo capitolo dove si vede moriarti il celebre storico nemico di sherlock holmes fantastico più vai avanti questo qua è bellissimo questo capitolo perché c'è un dualismo vedrete la storia dalla parte di sherlock e dalla parte di watson perché sherlock verrà accusato di omicidi e di non essere più il grande detective senza macchia di una volta e watson si troverà a dover investigare anche lui perché sherlock sparirà e vivrete la storia da tutti i due punti di vista per arrivare poi a un finale che non dico fantastico di più sempre della focus che fanno veramente una gran gran serie con un gran lavoro con sherlock holmes scontato dell'ottanta per cento da 19 99 a 3 99 quindi anche questo straconsigliato interfaccia italiana c'è sia l'interfaccia che sottotitoli non l'audio anche qua mi sembra sbagliato perché io ho giocato su ps4 non su pc e mi ricordo che tra l'altro anche platinato mi sembra mi sembra di ricordare che l'italiano il doppiaggio ci fosse però comunque l'italiano c'è quindi straconsigliato 1 99 quello prima quindi due euro questo quattro e col sei euro quelli prendete due e poi ovviamente l'ultimo capitolo crime and punishment con sbottato solo del 66 per cento praticamente con 20 euro vi prendete i scelto con se devo alfano gas scelto con scrime e punishment l'ho giocato poco perché non sto avendo molto tempo è stato mandato per ps4 l'ho ricomprato io per pc perché ho iniziato a giocarlo ed è veramente veramente bello e anche qua siamo sempre su alti livelli altissimi livelli di trama di caratterizzazione dei personaggi di investigazione perché qua finalmente un gioco dove dovete usarlo il cervello perché i casi dovete risolverli voi e anche questo supporta l'italiano sia interfaccia sottotitoli l'audio qua non me lo ricordo questo è scontato a del 66 per cento a 10 euro 19 ragazzi con 20 euro secondo me vi prendete quattro capolavori quattro masterpiece tra cui the wolf among gas che sta sopra ogni cosa vi invito a guardare anche la mia top ten per vedere in che posizione l'ho misi e vi posso anche dire se non l'avete già visto l'avete già vista lo dicevo anche lì che se non avessi giocato al primo posto the wolf among gas se lo sarebbe meritato se non l'avete vista ve lo spoilerato ma è quasi di sei mesi fa quindi niente per oggi finisce qui domani media avrete in diretta quindi cioè stasera per voi mi avete in diretta di questo penso a me a scanso di altri problemi o altri lavori sarà l'unico video che vedrete dei miei consigli grazie a tutti per avermi seguito spero di aver dato dei bei consigli spero li prendiate così poi mi potete venire a dire se vi sono piaciuti o no e vi do un abbraccio e ci vediamo domani tra o tra poche per voi tra poche ore in diretta ciao a tutti ragazzi